Buongiorno, sono Alessandro Perini, relatore del corso Naspi e altri strumenti di sostegno al reddito. In questo corso di cosa parleremo? Vedremo cos'è la Naspi, scopriremo tutti gli altri strumenti di sostegno al reddito introdotti da il Jobs Act, vedremo quale sono gli interventi per i lavoratori stagionali del settore turismo e tutti gli altri interventi di sostegno al reddito erogati dall'ente bilaterale Turismo Toscano. La partecipazione del corso è gratuita e il corso è realizzato dall'EBTT, ente bilaterale turismo toscano con il contributo dell'ente bilaterale nazionale del turismo. Andiamo subito a vedere cosa è la Naspi. La Naspi è stata introdotta attraverso la riforma degli ammortizzatori sociali dal famoso Jobs Act che ha previsto a partire dal 1 maggio 2015 anche altri strumenti di sostegno al reddito come l'Asdi e il Discol. Andremo a vedere poi successivamente i vari strumenti introdotti. Sicuramente la principale novità è la Naspi, cioè la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, che ha decorrenza dal 1 maggio 2015. Ha una funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito a quei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che involontariamente hanno perso la propria occupazione. Quindi è importante ricordare che dal 1 maggio 2015 la Naspi sostituisce le indennità precedenti Aspi e Mini Aspi. I destinatari sono i lavoratori dipendenti, come gli apprendisti, i soci di cooperativa e personale artistico con lavoro subordinato. Sono esclusi dalla Naspi i lavoratori della pubblica amministrazione assunti con contratti a tempo indeterminato. I requisiti per accedere alla Naspi sono fondamentalmente 3. Essere in disoccupazione, avere nei 4 anni precedenti il periodo della disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione e far valere 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti che precedono il periodo della disoccupazione. Cosa vuol dire essere in stato di disoccupazione? Deve essere una disoccupazione involontaria e a questa sono esclusi tutti quei lavoratori che hanno cestato il lavoro a seguito di proprie dimissioni o risoluzioni consensuali. La Naspi è riconosciuta anche per dimissioni per giusta causa durante il periodo tutelato della maternità, cioè i 300 giorni prima della data presunta del parto e fino a un anno di vita del figlio. Anche in caso di risoluzione consensuale il lavoratore ha diritto alla Naspi solo se questa è stata tenuta presso la direzione territoriale del lavoro. Stessa cosa per le 13 settimane di contribuzione, anche qui bisogna vedere quelli che sono i periodi utili a raggiungere queste 13 settimane nei 4 anni precedenti, quindi contributi previdenziali durante il periodo subordinato, contributi figurativi durante la maternità, i periodi di lavoro all'estero o nei paesi comunitari solo se questi sono convenzionati e i periodi di assenzione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite dei 5 giorni lavorativi nell'anno solare. Non sono previsti invece requisiti di anzianità assicurativa. Terzo punto, 30 giornate di lavoro effettivo, quindi nei 12 mesi precedenti all'inizio del periodo di occupazione devono essere totalizzate almeno 30 giornate di lavoro. L'indianità viene calcolata con una formula molto semplice, quindi la nuova base di calcolo è determinata dalla retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni divisa per il numero delle settimane di contribuzione moltiplicata per 4,33. Anche qui ci sono alcuni casi, in caso di frazione di mese si precisa il valore giornaliero è determinato dividendo l'importo per 30, l'importo se è inferiore a 1.195 euro l'indianità è calcolata al 75%, se invece è superiore si considera l'indianità mensile al 75% della retribuzione incrementato del 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il vedetto importo di 1.195 euro. Comunque l'importo massimo della Naspi non può superare 1.300 euro. È previsto anche un sistema di riduzione, cioè a partire dal 91esimo giorno dell'erogazione della Naspi ogni mese si riduce del 3% l'importo mensile che viene erogato. La durata di prestazione è corrisposta, quindi con cadenza mensile, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni. La domanda va presentata entro 68 giorni dall'accessazione del termine di rapporto di lavoro solo ed esclusivamente per via telematica, quindi o attraverso il web con il PIN accedendo al portale www.ims.it oppure attraverso gli enti di patronato. Da quando decore la prestazione? Dall'ottavo giorno successivo la data di cessazione del rapporto di lavoro, la domanda chiaramente è presentata entro l'ottavo, altrimenti dal primo giorno successivo si è presentata oltre l'ottavo. Alcune precisazioni. La Naspi non sostituisce l'indennità di malattia, questo si avviene entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, quindi viene solo sospesa la Naspi per durata della malattia e poi ripresa sospende quando, dal momento della guarigione e della ripresa della capacità lavorativa. Stessa cosa per la maternità, il periodo è sempre indennizzato se sorge entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, quindi anche in questo caso la prestazione di occupazione si sospende e può poi essere ripristinata al termine del periodo della maternità. È previsto anche un incentivo all'autoimprenditorialità, cioè è possibile chiedere l'accredito anticipato di tutte le mensilità se la lavoratrice o il lavoratore hanno intenzione di intreprendere un'attività lavorativa autonoma o un'impresa. Sono previsti anche dei casi di decadenza della prestazione, cioè se si perde lo stato di disoccupazione, se si inizia un'attività lavorativa subordinata o in forma autonoma senza provvedere alle comunicazioni previste, se si raggiungano i requisiti di pensionamento di vecchiaia o anticipati, se si acquisisce durante il periodo un assegno ordinario di invalidità, ma in questo caso è possibile optare o per l'assegno o per la NASPI, se vengono violate le regole di condizionalità che vedremo successivamente. Per quello che sono gli interventi antecedenti al 1 maggio 2015, la normativa ha specificato che questi si continuano ad applicare fino alla scadenza naturale della decadenza, cioè in caso di mini-ASPI o ASPI ad esempio. Prestazione accessore. Brevemente, anche qua, durante il periodo della NASPI sono riconosciuti i contributi figurativi per un massimo pari a 1,4 volte la retribuzione dell'importo massimo della NASPI dell'anno in corso. Anche i contributi figurativi sono computati per il sistema, diciamo, del contributivo ai fini pensionisti. Stessa cosa per gli assegni familiari, durante il periodo rimane l'indennità. Come viene trattata fiscalmente la NASPI? Come sulla stessa categoria del reddito da lavoro perduto o sostituto. E pertanto sarà soggetto a IRPEF? Saranno riconosciute se richieste le detrazioni per reddito o per carichi familiari? Sarà effettuato il conguaglio a fine anno fra le ritenute operate all'imposta dovuta? E sarà rilasciata la certificazione unica? È possibile, in caso di rigetto della domanda, fare ricorso alla struttura IMS competente entro 90 giorni del ricevimento del provvedimento amministrativo? Ecco le clausole di condizionalità, cioè l'erogazione della NASPI è condizionata solo se il lavoratore accede ai percorsi di riqualifica professionale proposti a servizi competenti o a altre iniziative di politica attiva.